Un aspetto importante comunque di questa rassegna è la gratuità. Sono venuto a conoscenza di questa rassegna che viene fatta in omaggio a questo grande artista che ha segnato in modo pazzesco la musica italiana. Come vedo progressivo succedersi, come un qualcosa che nonostante le mille difficoltà, le mille difficoltà economiche che la realtà italiana vive, che la realtà della musica italiana vive? Per esempio, Raffaello Dragoli può aprire la porta del festival per la nuova generazione. Arrivai in questo bellissimo luogo, Alberone di Cento, dove si svolgeva l'omaggio a Demetriastratus e portai quello che era il mio messaggio da allora. Comunque, un modo di fare musica fuori dai concetti abituali di quel periodo.